Il record della storia della menzana, che sensazione ti dà per aver raggiunto questo record? C'è una bella sensazione anche perché significa che abbiamo avuto successo finora, quindi mi auguro di continuare a giocare questo tipo di partite perché significa vincere. Quindi sono onorato di questo record e spero di poter insegnare anche altri. Sì, sicuramente abbiamo fatto un grandissimo lavoro di squadra dal punto di vista della difesa perché l'abbiamo limitato, abbiamo limitato la sua efficacia in attacco. Però sicuramente sia la prossima partita che le future contro di loro saranno altre battaglie e altri test da fare contro di lui perché è un giocatore molto giovane che ha molto talento. Quindi dovremmo riuscire a mettere molta intensità per difendere bene su di lui visto che è uno dei top scorers della Benetton. Sì, sono molto felice e soddisfatto di questo gruppo anche perché durante l'anno, durante l'estate nessuno si aspettava che noi rimassimo fino a questo punto. Tutti quanti parlavano di Milano e di altre squadre, mentre noi comunque abbiamo lavorato bene e abbiamo raggiunto questo obiettivo. Non ci siamo prefissi, diciamo, l'obiettivo di arrivare imbattuti durante queste finali e semifinali, però ecco, la nostra mente è sempre a continuare a giocare fino a ora questa serie e anche alla finale. Quindi non abbiamo particolari obiettivi se non quello di crescere, quindi sono soddisfatto di avere questo nuovo gruppo. Sì, abbiamo raggiunto molto, ma abbiamo ancora avuto a giocare molti a giocare, quindi vediamo. Sì, anche Michael Schumacher non dice, non dice, non dice, è un pilota, è un pilota, è un pilota. Ah, sì, sì. Alla fine aveva fatto qualche interblista in italiano dopo qualche anno. Non ho capito. Sì. Se qualcuno mi dà una Ferrari, farò l'intervista in italiano. Sicuramente la cosa più importante è non rilassarsi, non dobbiamo pensare di aver vinto di 20 punti e quindi ripeteremo la cosa, non dobbiamo abbastare la difesa, quindi continuare a mettere intensità, soprattutto non concedere rimbalzi offensivi perché concedere una seconda o terza opportunità in attacco potrebbe rendere la partita ancora più difficile, quindi l'obiettivo è scendere in campo concentrati perché si riparte 0-0. So, we'll have a good chance, but we've just got to come out focused.